buongiorno ragazzi in questo video parliamo di intervalli invariante ho già fatto un video in cui abbiamo capito abbiamo studiato in quella vasta memoria la definizione di intervalli invariante poi abbiamo parlato di eventi time like gli eventi like like e di eventi space like in questo video intanto vi dimostro davvero che per come è stato definito l'intervallo invariante è davvero invariante cioè che se tu lo calcoli in o e lo calcolino primo viene lo stesso numero quindi questa cosa ve la dimostro ovviamente passando per le trasformazioni di lorenz e poi facciamo un esercizio intanto per capire come giocare con i numeri senza utilizzare le trasformazioni di lorenz questo è molto carino perché trasformazioni di lorenz sono belle ma sono leggermente pesanti vediamo allora la dimostrazione parte ovviamente dalle trasformazioni di lorenz quindi le scriviamo allora quali sono le trasformazioni di lorenz ovviamente quelle differenziali e perché intanto dico quelle differenziali perché ragazzi il l'intervallo il quadrato dell'intervallo invariante è scritto così delta sigma quadro uguale a c delta t alla seconda meno delta x se siamo in una dimensione spaziale alla seconda quindi ovviamente ho bisogno di informazioni come dt e dx quindi uso le trasformazioni in modo differenziale quindi delta x primo è uguale a gamma delta x meno u delta t ed un attimo capito perché lascio degli spazi e delta t primo uguale a gamma delta t meno u su c quadro delta x abbiamo già visto un sacco di cose bellissime no partendo dalle trasformazioni di lorenz differenziali tipo la contrazione delle lunghezze simultaneità relativa dilatazione dei tempi ora invece voglio trovare che cosa voglio partire da questa quantità qua e dimostrare che è uguale a questa quantità qui ovviamente voglio dimostrare questa cosa ragazzi perché questa poi la vado appunto chiamare delta sigma quadro quindi invariante vuol dire appunto che passando da un mondo di o primo a un mondo di o questa quantità rimane uguale invariante quindi parto da c dal mondo di o primo e sviluppo perché io le trasformazioni vedete in cui riesco a sciogliere delta x primo e delta t primo però ragazzi vedete che i soggetti qua sono non è tanto delta t primo ma è c delta t primo vedete e delta x quindi io voglio creare la quantità c delta t e come faccio ma faccio in modo molto semplice moltiplico per c e divido per c e poi anche qui moltiplico per c tutta la prima tutto il pro membro e moltiplico per c anche tutto il secondo membro quindi ovviamente se in una tonda per c e per c allora perché guardiamo intanto ragazzi che cos'è questa quantità qua u su c è beta no cioè è il rapporto tra la velocità di trascinamento e c e poi ho c delta t molto bene qui cos'ho il mio c delta t qui ho il mio c delta t sono molto contento qui c e c van via e che cos'ho u su c che è beta molto bene quindi vedete che ho creato le mie quantità delta x e c delta t infatti così la trasformazione di Lorenz è molto più simmetrica bene allora adesso sviluppo nel senso che adesso devo creare c delta t primo alla seconda che è semplicemente tutta questa quantità alla seconda e allora faccio gamma quadro per e adesso faccio tutta la seconda cioè c delta t alla seconda più beta quadro delta x alla seconda meno il doppio prodotto quindi 2 beta c delta x delta t e questo è questa quantità poi faccio meno questa quantità quindi ovviamente guardo qua e viene gamma quadro per questa quantità alla seconda quindi viene delta x alla alla seconda più beta quadro c delta t alla seconda meno 2 beta c delta x delta t ora sperando che vada via molta roba intanto cosa vedo che questa quantità e poi qui c'è un meno che fa cambiare il segno a questa quantità quindi la fa diventare un più va via il doppio prodotto va via se ci fosse stato qui un più non sarebbe andata via e quindi non sarebbe stato invariante perché la presenza dei doppi prodotti vedete io devo creare questa quantità poi raccolgo tutto sotto un unico gamma quadro e adesso raccolgo gli amici di c delta t quadro una qua e una qua quindi c delta t quadro che raccoglie un da questo un 1 e da questa attenzione un meno beta quadro poi adesso raccolgo gli amici di delta x alla seconda però visto che qui devo creare un meno raccoglierò un meno delta x alla seconda per che cosa allora raccolto un meno quindi questo che ha davanti questo meno qui ma visto che ho già raccolto il meno viene un 1 mentre qui visto che ho raccolto un meno questo più lo vedo come scomposto da un meno da un meno quindi se ho raccolto un meno rimane un meno di quadro è una piccola furbatina ma di raccoglimento che queste cose si fanno in prima bene e adesso quindi vedete che è un raccoglimento parziale nel senso che posso raccogliere anche esternamente un 1 meno beta quadro e viene guardate c delta t alla seconda meno delta x alla seconda siamo molto vicini no io devo dimostrare che è uguale a questo qua quindi che bello se questa quantità facesse 1 no così va via fa 1 perché gamma quadro che cos'è è 1 fratto 1 meno beta quadro quindi per 1 meno beta quadro va via e quindi ho dimostrato che questa quantità è una quantità invariante perché come vedete è uguale quindi che tu la calcoli in o primo e in o e benissimo questa era la prima parte adesso volevo fare un esercizio quindi senza passare per le trasformazioni di lorenz perché ci siamo passati per dimostrarlo allora adesso vi dico l'esercizio allora nel mondo di o ci sono due eventi e c'è l'evento a e l'evento b l'evento a è caratterizzato dal avere una posizione ed un tempo e la stessa cosa in b ok e adesso vi do i numeri nel senso che allora x a vale 1.8 metri e t a vale 18 nanosecondi mentre in b la posizione 9.9 metri e t b vale 22 nanosecondi quindi senza leggere né scrivere e sapendo nient'altro intanto io che vorrei rappresentare su un diagramma dove qui ho x e qui ho c per t vorrei rappresentare questi eventi nel mondo di o quindi cosa succede che devo moltiplicare per c di qua e di là quindi per 3 per 10 alla 8 metri al secondo e per 3 per 10 all'8 metri al secondo sembra una cosa innaturale ma se avete visto il video di prima voglio rappresentare x e c per t non è difficile perché nano vuol dire 10 alla meno 9 secondi e secondi si semplificano e quindi basta fare 18 per 3 che fa 54 10 alla meno 9 quindi tutto questo numero qui farebbe 54 diviso 10 e quindi 5,4 metri e sotto 22 per 3 fa 66 diviso 10 6,6 vedete che si ragione in metri tranquillamente quindi l'evento a è in 1.8 quindi se facciamo facciamo un'unità sì quindi 1.8 è qua e il suo tempo è 5,4 quindi è qua quindi l'evento a è qua l'evento b è 9,9 quindi praticamente 10 sulla x e sul tempo 6,6 quindi qua bene allora intanto la domanda è l'invariante quadrato è positivo o negativo cioè questi due eventi sono space like time like allora intanto senza far nessun calcolo si vede benissimo che ovviamente sono space like perché se io disegno il cono di luce di a b non sta all'interno del cono di luce di b scusate b non sta all'interno del cono di luce di a e b e a non sta nel cono di luce di b quindi non si possono influenzare tra di loro e quindi sono space like però uno che non ha fatto il grafico come fa a vederlo semplicemente calcola il quadrato dell'invariante tanto viene c delta t alla seconda meno delta x alla seconda abbiamo calcolato c delta t e delta x no li calcolo qua tanto delta x la differenza quindi viene 8.1 metri e c delta t la differenza quindi viene 1.2 metri e quindi viene 1.2 metri alla seconda meno 8.1 metri alla seconda quindi 1.2 alla seconda quindi 1.2 alla seconda meno 8.1 alla seconda che ovviamente viene negativo meno 64.17 metri alla seconda quindi i due eventi sono space like ma questo io l'avevo già detto quindi se sono space like vuol dire che c'è un osservatore che può misurare una lunghezza propria tra i due eventi e tra l'altro adesso poi la misuriamo questa lunghezza propria però quindi c'è un osservatore per cui questi due eventi sono simultanei cioè avvengono magari c'è un osservatore piegato così con l'asse esattamente qua o comunque ragazzi il suo asse potrebbe benissimo passare per l'origine perché basta prenderne uno con l'asse parallelo qua ok quindi un osservatore fatto così o che passa di qua è uguale per lui i due i due istanti sono gli stessi e se volessi rappresentare anche il suo asse dei tempi potrei ad esempio come faccio ragazzi a rappresentare l'asse dei tempi allora visto che qui l'angolo è di 9 prendo un piegamento di 81 perché c'è sempre questo legame qua ok questo è c t primo e questo è x primo e vabbè potrei disegnare il raggio di luce ma qui non è così importante e quindi potrei ad esempio trovare vi faccio vedere tutto ciò che si può trovare potrei trovare la velocità di questo osservatore in realtà di questo osservatore io ho già un più o meno un aiuto sulla sua velo ho già qualcosa sulla sua velocità perché so che vedete più o meno quest'angolo è di 8-9 gradi e io so che beta è proprio la tangente di quest'angolo e quindi beta sarà più o meno la tangente di 9 gradi ovviamente questo è un calcolo da fare a mano poi lo faremo perfetto poi vi faccio vedere quante cose si possono già trovare dal grafico e quindi ho trovato un beta che vale 0.1584 come faccio a trovare il beta perfetto? allora negli eventi spacelike la velocità di un osservatore per cui sono simultanei allora sarà delta x fratto c delta t o c delta t fratto delta x? vedete io adesso anche se non me lo ricordo a memoria visto che beta deve essere minore di 1 sarà ovviamente questo fratto questo e quindi devo fare sarà c delta t fratto delta x 1.2 metri fratto 8.1 metri quindi bisogna essere anche un attimo scaltri quindi viene una velocità precisamente di 1.2 diviso 8.1 che viene 0.148 questo è la velocità di un osservatore che vede questi due eventi simultanei e io vedete solo con l'angolo avevo più o meno detto un valore abbastanza simile e infatti l'angolo perfetto quindi sarà l'arctangente di 0.148 vediamo di quanto ho sbagliato rispetto a 9 gradi quindi arctangente di 0.148 ecco quest'angolo qui esatto esatto è 8.41 e 8 gradi quindi vedete e potrebbe chiedere qualcos'altro questo esercizio potrebbe chiedere la lunghezza propria se questi due eventi sono i due estremi ad esempio di un regolo che si stanno spostando e allora negli space like io so che delta sigma quadro è uguale semplicemente a meno l quadro dove l è la lunghezza propria quindi semplicemente l visto che c'è vedete delta sigma quadro è negativo viene meno 64 e 17 metri al secondo meno per meno più quindi l è semplicemente la radice di meno sigma quadro quindi è la radice di 64 e 17 metri quadrati e quindi viene una radice di 64.17 che risulta circa 8.01 e 1 metri ho trovato senza che io diciamo abbia bisogno di leggere ok l'esercizio tutto quello che mi si può chiedere almeno spero adesso leggo il testo mostra che esiste un sistema di riferimento S in cui due eventi avvengono nello stesso istante certo sono space like e quindi simultanei quindi calcola la loro distanza spaziale in S dove S è ovviamente il sistema di riferimento in cui erano simultanei quindi è quello che ho chiamato O' benissimo e tra l'altro io ho trovato anche il valore di beta vedete che non ho usato le trasformazioni di Lorenz grazie a tutti